il pippone il pippone ce n'è uno tutti gli altri sono nessuno per accio e ascia non l'ammazzerai mai tieni prendilo ma che me sta trolla male me sta trolla malissimo le trollate l'unica serie in questo da bendy start ma cos'è sto porco ma che gioco è una partita rispondere al telefono ma che cos'è ho fatto il pc grazie a Hector nel 2016 e in realtà come pc gaming ho fatto l'upgrade del hanno c'è ragione non tutti l'anima ho dovuto fare a fine le riccazzate ma nel 2000 che rumore è uscito mi fate una clip per piacere aspetti scusi a me da pepe bello una pepe bello una pepe dico ma scusi io faccio a velina siamo nell'erba alta no no dissocio di questa sì no ma no mi dissocio capitano io mi dissocio ma non riesco a sparare che cazzo dai ma davvero la camera vai butta giù va bene ottimo guarda la camera aspetta aspetta no dai mortacci su ciao c'è lo sputo di vita se lo guardi more questi stanno qua sotto stanno là sotto sì ah sì ti ho preso ma guardate che timing di me narda occhio aspetta che devo scendere io prima siete in 6 lì no ma no a 150 metri oh gente davanti a me di 80 porca madonna nabbè 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 oh che sto guarda guarda il culo di quello di nuovo a 1059 di pino cosa cazzo è successo se casca sotto o 982 di ping ragazzi assurdo ma rapino non ha funzionato se mannaggia porco ciò che ho fatto è troppo calmo ragazzi mortacci tua cavato pian corpo insomma di un'ultima tante persone che sono state comunque arrestate e mandate diciamo giudicate la pena capitale di danno se fanno 30 anni in più cioè se c'è la legge che esercano perché poi se fanno 30 anni di prigione vabbè ma che domanda stava forum sul canale 5 ma che domande so il capannone dove c'è il bagno vicino diga che aspetta ma è partito tutto oddio ecco chi spara chi ha sparato ragazzi a me no ma è partito un corpo mi ha preso un corpo ma io l'ho sentito da qua dentro ma sei tu io sto fuori qua frank hanno trovato zaino oscar di frankfrager a fine anno è roba vera è roba seria top donatore top giftatore best nickname best moderatore best clipatore abbiamo aggiunto best poeta best battuta in chat devo dire migliore battuta in chat migliore già sta parecchio avanti io so best strong incredibile nuova non entrami i corpi non entra un cazzo ma che ho fatto non ho capito le zippo le zippo che ha fatto così è un franche è un franche non hai disposto non hai disposto non hai disposto di chi scrive ma non hai disposto ma non hai disposto ci sta lo sparando ci sta lo sparando fermi Lo sapevo. Erso... Ersoccio con... Ersoccio con l'ombrello. No! Fermo! Eh che è un altro regà, questa gli è partita la ciabatta. Dico che parte la ciabatta a me! E la ciabatta parte a lui! Meno male che gli è Stemo! MADDO! Eh che è un altro, va! Facciamo pure io, contatti, contattini. Fammo tutto! Non si è un altro regno! Non sono le catture, non sono le catture, non sono le catture. Ma, non sono le catture, non sono le catture. Ma, non sono le catture. È un peggio per il tempo. Hooray! Ho! 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 Vai Frank. No! 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 Acazzotti da mio! Oh! Oh! la rossa ma scusa ma quanti cazzo ce ne so stessi le dimme de fascetta per ogni botta scusate ma c'è qual c'è qualcosa che non cosa tt ho una massa come sta carico e carico che ci ha messo dentro che cazzo cazzo se così stai tranquillo pure se moriamo moriamo rilassati sentivo sotto sottofondo senti una gesto rumore strano è un problema col microfono rega sono per microfono tutto ciao sciagallo sta ancora qua cocco bello cocco fresco se non mangi cocco bello non ti cresce più il fammi entrare nel tuo convento per restare vicino ciao 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 Grazie a tutti.